PIPPO CAMPAGNA PIPPO CAMPAGNA avvenuta nel maggio del 2016. La troupe non si è però fermata e grazie al desiderio della famiglia è finalmente riuscita ad ultimare il lavoro. Più di 200 le persone coinvolte tra attori professionisti è comparse nel cast tra i protagonisti Mario Marasè e Francesca Nicosia, direttore della fotografia Alessandro Caiuli, musiche di Antonio Napolitano, riprese video di Luigi Pintabona, montaggio a cura di Pietro Campagna. La proiezione avrà inizio alle 19.30.